Finanziato a Ispica un progetto a valere sui fondi del PNRR per la montare di 830.000 euro, finalizzato al miglioramento e alla meccanizzazione della raccolta differenziata. A darne comunicazione il consigliere comunale di Cambiamo Davvero Ispica, Paolo Monaca, che quando era assessore al ramo ha seguito passo dopo passo l'iter del percorso, poi approvato in giunta nel mese di febbraio dello scorso anno. Il progetto prevede il miglioramento, la meccanizzazione, la digitalizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani in un'ottica sempre più dinamica e innovativa. Sarà realizzato un sistema integrato di attrezzatuni in rete per la raccolta differenziata digitale e intelligente, costituito da 15 isole ecologiche, automatiche in modalità fai-da-te e funzionanti H24 video sorvegliate, illuminate e con accesso controllato. L'obiettivo sarà di migliorare la qualità e soprattutto la quantità della raccolta differenziata, riconoscendo una serie di incentivi per i cittadini eco-responsabili e attenti al rispetto dell'ambiente. Le 15 isole ecologiche, automatiche e fisse saranno allocate sul territorio cittadino, sia nell'ambito urbano che quello extraurbano, e più precisamente a Santa Maria del Focallo e Marina di Marza. Stiamo parlando, riferisce Monaca, di isole ecologiche digitali con la possibilità di essere controllate da remoto. Ogni isola ecologica conta ben otto bocchettoni, ogni bocchettone conferisce su un carrello di 1100 litri. L'obiettivo, evidenzia ancora Monaca, è quello di migliorare sia la qualità che la quantità di raccolta differenziata, cosicché l'attuale percentuale di RD del 65% possa inalzarsi ancora di più. Lo ritengo un risultato straordinario che finalmente consentirà alla città di Ispica di dotarsi di un'infrastruttura fondamentale, un'infrastruttura all'avanguardia per migliorare il sistema della raccolta dei rifiuti in città.